Ho proposto una serie di nomi prima dell'ufficio stampa vinceva, questo no, perché fosse lei no, perché è un passato, quando dice il tuo nome, questa è lei è perfetta. La sbilata dei bambini è sempre la più bella, devo dire, perché tutti d'accordo, prima me la sbilata che riuscissero i bambini così piccoli, così coinvolti, con la gioia, sfilare con la mamma, mi sembrano tutte sorelle, veramente, non ho capito bene se erano mamme, sorelle, figlie, buoni, cucine, però mamme giovane anche, ma che non si capiva, però veramente complimenti perché è stata una sfilata fantastica, devo dire, forse è la più bella con cui sono la mia amica. No, è vero, 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 ho messo la sua professionalità, poi ogni bambino ha una sua caratteristica, no, quello timido che sfuggiva, quello che salutava, quello che non gli piaceva fare, è stato veramente bellissimo.